Dopo l'avvio delle prenotazioni per la fascia di età 70-79 anni, è possibile iscriversi ad apposite liste di adesione per il vaccino dedicate alle persone fragili o estremamente vulnerabili che non risultano seguite dalle strutture assistenziali ospedaliere e non hanno generato un'esenzione ticket. Per iscriversi è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche. I referenti degli ospedali provvederanno poi a chiamare direttamente i pazienti iscritti nella lista per concordare l'appuntamento vaccinale. Dunque non è necessario accedere alla piattaforma di prenotazione di poste italiane. La Regione Marche ricorda che per gli estremamente vulnerabili, che invece sono seguiti dalle strutture ospedaliere, la vaccinazione è già iniziata nelle scorse settimane e procede per chiamata diretta da parte degli ospedali. Non è quindi richiesta la prenotazione o l'iscrizione alle liste. Sempre dagli ieri è possibile iscriversi anche ad apposite liste dedicate a persone con gravi disabilità, che non sono seguite dalle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. Per iscriversi, anche qui, è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche. Queste liste verranno distribuite poi ai coordinatori dell'Equipe della Medicina Generale, che provvederanno a chiamare i pazienti iscritti nella lista. La Regione, infine, fa sapere che la vaccinazione per le persone over 80 con gravi disabilità è già stata avviata. Nei prossimi giorni partirà anche quelle per le persone disabili che sono assistite, ma in questo caso non è necessario provvedere alla prenotazione.